Buon pomeriggio a tutti cari amici, è bene, una partita che mi auguravo finiva contrariamente ma purtroppo la nostra tennista con nazionale Stefanini ha perso il rimonta per 2 a 1 contro la Muramatsu e quindi non andrà al torneo della Thailandia, fase finale, gara finita per la giapponese 2 a 1 parziali 5-7, 7-5-6, 3 partite durate 3 ore e un minuto, sia il primo che il secondo se sono durati 1 ora e 3 minuti il terzo 55 minuti, vittoria della tennista giapponese quotata 1.44, 1.45 e 1.47 bene, ribadiamo allora, purtroppo la nostra tennista con nazionale Stefanini perde il rimonta con la Muramatsu per accedere la fase finale del torneo femminile di tennis WTA in Thailand ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti